Ecco questo è un pezzo di quel che resta della tribuna dello stadio a piani demolita per la riqualifica. Alle mie spalle lo vedete quello che resta, le macerie verranno ripulite entro una decina di giorni, ripartiranno i lavori per lo stombinamento anche del canale Alicorno. Ad un anno dal primo colpo di Benna si è conclusa la demolizione della tribuna dello storico stadio a piani di Padova. I lavori hanno avuto un rallentamento di cinque mesi a causa di tre ritrovamenti di amianto che ha richiesto un'ulteriore bonifica con un costo aggiuntivo di 80 mila euro. Realizzeremo la nuova tribuna, sarà una collinetta e quindi riprodurrà anche l'immagine del primo a piani, una tribuna con 200 posti a sedere quindi in linea anche con le normative del CONI per questo impianto ma poi il cantiere e i lavori porteranno anche una riqualificazione in tutta la strada, in tutta via 58esimo fanteria. La riqualifica dell'area che vedrà anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile che si collegherà con quella di via Bembe e di via Quappendente costerà circa un milione di euro. È una cifra che è finanziata dal PNRR quindi qui stiamo seguendo anche le scadenze e le indicazioni che il Ministero ci sta dando nonostante gli inconvenienti comunque riusciremo a consegnare l'opera in tempo, entro l'anno i lavori saranno finiti.